scott sulla base di caratteristiche dentali è stato in grado di suddividere l'umanità in cinque gruppi sostanzialmente il primo gruppo è quello dell'eurasia occidentale il secondo gruppo è quello dell'africa subsahariana il terzo gruppo è quello dei sinoamericani anche denominati come sinodonti il quarto gruppo è quello appunto dei sundanodonti o pacifici e il quinto gruppo è quello dei saul pacifici questa suddivisione che ha fatto scott insieme anche a tarner nel 1997 è basata sulle caratteristiche dentali cioè ha classificato l'umanità in base alle caratteristiche dentali prendendo in considerazione all'incirca 42 tratti dentali i popoli sundanodonti sono quelli del suddesto asiatico e anche della polinesia e della micronesia sono dei popoli più primitivi se vogliamo più antichi come storia con una morfologia dentale più generalizzata i sinodonti invece sono i popoli della cina della mongolia del giappone del nord est della siberia del sud della siberia dell'artico a livello delle americhe ovviamente del nord america ma anche del nord est dell'america e del nord e del sud dell'america i sinodonti a differenza dei sundanodonti hanno invece delle caratteristiche dentali differenti in primo luogo derivano dalle popolazioni del nord asia in secondo luogo la dentizione è più specializzata perché a tratti anatomici più specializzati è anche un'anatomia dentale più complessa grazie a tutti